Sfortuna la fazione umanista, che è quella che circola in mezzo alle persone, che magari uno può ritrovare anche dove non si aspetta, cerca di divulgare dei valori costruttivi, perché? Per dimostrare ai vertici degli illuminati, quelli geneticamente evoluti, che gli umani meritano una possibilità. Voi dovete immaginare una divisione gerarchica e sovrascientifico di questo tipo. Quindi due consigli, uno a favore degli umani, uno che li vuole invece ridurre schiavi a 500 milioni di abitanti, e un vertice, che in gergo viene chiamato il re del mondo.